Il Veneto è in zona rossa, ma la diffusione del virus non è ancora stata allentata. Lo conferma il presidente Luca Zaia. Il dato del trend di ricrescita dei contagi è evidente. Lo si vede sia sull'incidenza quotidiana dei positivi sui totali dei tamponi. Lo si apprezza ormai purtroppo quotidianamente anche sui ricoveri. Aumentano anche i ricoveri e di conseguenza la pressione sulla sanità veneta. Quando si vedono 131 persone ricoverate in 24 ore, un warning deve comunque esserci. Questi dati portano da una parte a un appello alla popolazione perché vengano rispettate le basilari norme anti-covid. Dall'altro ovviamente con la necessità di predisporre, poi ne parlerà il dottor Flor, predisporre anche cure ospedaliere e organizzazione ospedaliera alta a rispondere a questa emergenza. Per ora non si parla di contrazioni dell'attività ospedaliera programmata. Sicuramente siamo nella condizione di prendere atto che si riattivano i covid point, i covid hospital. E su questo è fondamentale dirlo perché significa che sono una decina di ospedali, che sono Vittorio Veneto, Belluno, Villa Franca, Dolo, Jesolo, Santorso, Schiavonia, Trecenta, che sono ospedali che sono ancora i nostri ospedali covid e sono ospedali che avranno comunque compresse le altre attività, pur mantenendo i punti nascita. E su tutto questo gravano le incertezze legate alla situazione dei vaccini. Non agevola tutto questo il tema di AstraZeneca, di quello che è accaduto ieri. Noi abbiamo avuto nel giro di 48 ore, abbiamo avuto docce fredde in continuazione.